A Roseto degli Abruzzi il caratteristico mosaico realizzato da Bruno Zenobbio nel 2001 situato all'ingresso della storica Arena Quattropalma è stato tassato perché è considerato come insegna pubblicitaria all'omonima pizzeria situata all'interno dell'Arena. A fare questa scelta è stata Labaco, la società incaricata dal Comune Roseto per il censimento delle insegne pubblicitarie, i cui addetti hanno clamorosamente scambiato l'opera dell'artista rosetano per l'insegna pubblicitaria della pizzeria Arena Quattropalme. Quando ho ricevuto l'avviso di pagamento per la pizzeria, dice Riccardo Viscioni, titolare dell'attività, ho notato tra i rilevamenti delle affissioni pubblicitarie insegna anche il mosaico all'esterno dell'Arena. Ovviamente si tratta di un errore della ditta che ha effettuato i rilevamenti, anche se mi pare strano che non abbiano riconosciuto un mosaico che nulla a che fare con la pizzeria. Ora Viscioni farà ricorso ma l'errore poteva anche essere evitato. Ricordiamo che i commercianti rosetani dovranno pagare la tassa sulle affissioni pubblicitarie entro il 31 maggio e la riscossione è affidata sempre alla Labaco. Un censimento delle insegne così capillare non veniva fatto da anni e di conseguenza chi prima non pagava ora dovrà farlo. Non si plagano dunque le polemiche sulla tassa della pubblicità per la quale il sindaco Sabatino di Girolamo d'intesa con la maggioranza ha deciso di sospendere l'aumento del 30% contenuto nella delibera approvata nel Consiglio Comunale d'inizio aprile in attesa di sapere dal Revisore dei Conti come procedere per la revoca definitiva. Passo indietro fatto dall'amministrazione dopo la nutrita protesta dei commercianti.